E' praticamente ufficiale, a Montesilvano dal prossimo 15 giugno verrà introdotta la tassa di soggiorno. Sindaco, come mai questa decisione? La decisione è maturata a inizio della nostra consigliatura, ritenendo questa risorsa, perché di risorsa si tratta di diatura economica, un elemento che possa aiutare l'amministrazione comunale ma anche il territorio da un punto di vista dello sviluppo turistico. Turismo che noi abbiamo messo al centro della nostra azione politica. E' certo che questa tassa non è stata ben accolta inizialmente dagli operatori turistici, dagli albergatori, con i quali però nel tempo poi abbiamo ragionato e siamo arrivati a una condivisione anche relativamente a quelle che possono essere i vantaggi di cui parlavo prima, ma soprattutto le modalità che sono state concertate e inizialmente, almeno per quest'anno, sono molto limitate, prevedendo delle esenzioni per le categorie, diciamo, per i bambini che vanno fino a 14 anni e per gli anziani oltre 70 anni, oltre a una esenzione per quello riguardo la durata. La tassa verrà calata per soli 4 giorni e non per la durata della permanenza sul territorio. Tutto questo perché vogliamo che tutto quello che è stato detto sia comunque inizialmente calato in maniera moderata. Gli albergatori in realtà non erano contrari alla tassa in quanto tale, ma erano spaventati dalla destinazione che è questa, poi verrà data alle somme introitate. Noi abbiamo rassicurato in merito a questa destinazione che verrà ragionata anche con loro nel corso degli anni.